Salve a tutti ragazzi, qui è AmericanShadow con un nuovo episodio di Minecraft Allora, avevo messo a fare della gomma, ok Vi starete chiedendo perché ho questi cavi d'oro in mano Ve lo spiego subito, ma prima Dobbiamo craftare, ecco qui, allora questa Io ho tolto l'Electric Fornance da lì E ho tolto anche, come si chiama, il Rotary Macerator Allora, togliamo un attimo questi fili Mettiamo la Induction Fornance qui Attiviamo la leva Togliamo questa e portiamogli la corrente Come facciamo, come facciamo Prima di tutto Recuperiamo la Batbox Chiave ho messo qui Poi scendiamo Aia Come vedete ho preparato una stanza solo per fare Diciamo tutto questo Evitiamo di far Spawnare mob, grazie Ok Qui ci va la Batbox Solo per non far disperdere l'energia No Penso che i cavi non bastino Ma Ne faremo altri, non penso d'oro Ma almeno di Copper Sì perché L'oro, purtroppo, di oro non ne ho più Andiamo a prendere un po' quelli di Copper Saliamo da qui direttamente Ok, prendiamo un po' di Copper Uno, due, tre Allora Facciamo questi cavi di Copper Mettiamo la gomma Sì, qua ne rimaniamo uno così Ne abbiamo sette Non so se ce la facciamo Ma proviamoci lo stesso Ok Allora Devono scendere di qua Andare di qua Anche se per il momento Ci siamo non ce n'è bisogno Ok Di qui Togliamo questa terra Sì, qua distruggo Quasi a caso Allora, smettiamo di parlare così innanzitutto Ok Allora L'energia arriva a sufficienza Adesso dobbiamo vedere se Arriva qui Perché dovremmo far arrivare altri cavi Altri cavi, altri cavi Quindi Saliamo ancora Non cadiamo di nuovo giù Meno male che avevo messo il cavo Ok Scusate Ok Mi serve della gomma Della gomma Che non ho Della gomma Che non ho Ma per fortuna Ho piantato gli alberi Quindi Prendiamoci al volo a volo Questa gomma Ok Albero Dammi tutta la tua gomma Tu gomma Gomma Ok Corri Sì Sto saltellando senza correre Lo so Sono un idiota Tre volte Sono un idiota Ok 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 No Nell'extractor va questa Guardate com'è veloce questa Anche se sta Se è solo al 17% Ma È già molto più veloce Rispetto a quella Quando sarà al 100% Farà così Tum 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 Subito Ok Facciamo altri 7 cavi 3 4 Ok Ce la facciamo giusto Giusto Con la gomma Ce la conserviamo Più là Aglia Ok Facciamo così 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 Ho detto così Vediamo se l'energia arriva Si si sta ricaricando Vediamo se riesce a ricaricarsi tutto Ok Molto bene Molto bene Qui Si è caricato tutto Qui continua a ricaricarsi Molto bene Ok Per il momento È tutto a posto Ok Adesso Andiamo a dormire innanzitutto Questo è un episodio Pre Smistamento chest Perché Perché sto cercando di Diciamo Iniziare Lo smistamento chest Come potete vedere In questa chest Ho preparato Quasi tutto L'occorrente Che Ci serve per Per quello che dobbiamo fare Insomma Usciamo un attimo Allora No 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 Uffio Mamma mia Pensavo che mi avesse distrutto Il Sorting machine Meno male Il creeper Questa volta è stato gentile Allora Saliamo un attimo Si Proprio così Guarda Dobbiamo salire Ok Non qui Qui Poi Qui ci mettiamo una battery box Poi Altri cavi Facciamo così Così Questo perché abbiamo Tre solar panel Allora Vi starete chiedendo Perché non ho collegato Direttamente solar panel Al sorting machine Perché Perché questa battery box Può Diciamo Viene caricata E come Scusate E come la bat box Soltanto che Diciamo Va A questa energia Qui con questi cavi Quindi Se collegassi I solar panel Direttamente al sorting machine Durante la notte Il sorting machine Non funzionerebbe Mentre Caricando questa Battery box Diciamo Può funzionare Anche di notte Agia Continuo a farmi male In questo episodio Si Rompiamo tutta casa Si Non ci arrivo nemmeno lì Dovrei avere Della stone Si Ok Ripariamo lì Perché Odio vedere buchi Questo diamond drill Sfonda la terra Non la scava Ok Ok Come vedete Si sta ricaricando Noi lo lasciamo Caricare Tanto Al momento Non ci serve Allora Iniziamo a mettere Un po' di tubi Allora Questo qui Non ci serve Iniziamo A mettere Un po' di tubi Ok Qui Facciamo in questo modo No Non facciamo in questo modo Ma facciamo in No Che cavolo Invece di mettere i tubi Metto Brick Ok Facciamo così Si Proprio così Ok Così E così Perché faccio così Perché qua Andrà un altro Rotary Macerator Quando lo riuscirò a craftare Guardate Qui sta arrivando Il massimo Il massimo è 7500 Qui sta 72% Ma si ricaricherà Poi Andiamo un po' più avanti Facciamo lo stesso Anche di qui Non vi preoccupate Che questo smistamento Chest E' davvero Una bomba L'ho provato Io E vi assicuro Che funziona Ok Togliamo la torcia Facciamo così Non qui Ok I tubi per fortuna Sono bastati Adesso Devo vedere i cavi Se bastano Ma Per il momento Penso Avete visto abbastanza Sì Sono i bambini Dei miei vicini Che fanno gli stupidi Lo so Spero non li sentiate Bene L'ultima cosa di oggi Vorrei 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 Farvi Vedere come si crafta Questo Allora Il filtro La pelle L'oro Questo E anche il ferro E il blu Ok Allora Andiamo qui Facciamo così Così E facciamo Due Enderpearl Due di questi Anche se ne dovevo fare Più di enderpearl Dovevo prendere anche più ferro Allora Prendo Dieci Dieci di ferro Uno Due Due Sì Uno Due 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 Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Perché sto facendo questo Adesso lo vedete Così vi faccio vedere anche come li ho craftati Allora Con quattro di ferro Facciamo Un enderpearl Con otto Ne facciamo Logicamente due Ok Mettiamo altri due Ma non mi trovo perché Perché Non è oro Ma è brass Quindi Devo mettere a fare il brass Il brass si fa con Tre copper E una tin Ne fa due Giusto? Non ne fa quattro Quindi ci servono solo tre copper E una tin Tre copper E una tin Uno Due Tre Una tin Una tin Usiamo questa Allora Togliamo questa nicolite Mettiamo questo Aspettiamo che si fa Spero si faccia più presto Voglio Farvi solo vedere come si craftano questi retriever Poi Quando verrà Diciamo La prossima parte Vi mostrerò come ho craftato anche Le altre cose Allora No Un altro retriever Ecco fatto Questo retriever A cosa serve Ve lo spiegherò nel prossimo episodio Quindi Se questa prima parte dello smistamento chest Vi è piaciuta Lasciate un mi piace Un commento Mettete mi piace Alla pagina di facebook E iscrivetevi al canale Alla prossima Ciao